La città di Napoli al signor Raffaele Carlino, presidente di Carpisa, in segno di infinita ammirazione per la sua intensa attività imprenditoriale caratterizzata da altissima professionalità, passione, tenace e determinazione, doti che hanno consentito di sviluppare ed espandere globalmente un marchio aziendale che oggi è di riconosciuta indiscussa e apprezzata qualità. Con profonda gratitudine per aver tenuto alto il nome della nostra città e del Made in Naples in Italia, in Europa e nel mondo, Napoli, 12 ottobre 2018. Con una cerimonia in sala giunta il sindaco Luigi De Magistris ha consegnato il riconoscimento della città al presidente di Carpisa Raffaele Carlino, imprenditore napoletano dal 2001 a capo di un marchio che conta oltre 600 punti vendita nel mondo. Presenti anche i familiari che lo affiancano nella gestione dell'azienda. Un riconoscimento che sicuramente porterò nel cuore perché ho sempre creduto nella mia città, ho voluto rimanere a Napoli a tutti i costi e credo che i premi, soprattutto poi dati da un primo cittadino, ci fa solamente piacere. È un premio che io ritiro a nome della mia famiglia, i miei figli, i miei collaboratori, 2000 dipendenti che fanno parte di questa incredibile famiglia che è riuscita a portare il nostro brand napoletano in tutto il mondo. L'ultimo dato statistico, Napoli terza per start up giovanili, dimostra che tanti giovani stanno investendo in città, stanno costruendo imprese. Oggi è il riconoscimento a un'impresa storica che nasce dal basso, che si diffonde nel mondo ma mantiene intatta tutta la napoletanità. Molto bello che ci siano imprenditori che rimangono nella nostra città, che investono anche nella nostra città. A noi sono sempre piaciuti gli imprenditori che lavorano anche per la città nel sociale, nello sport, per far progredire le comunità, invece abbiamo contribuito a sconfiggere i tanti prenditori che andavano a braccetto con la politica. Grande appassionato di sport, Raffaele Carlino è anche presidente della squadra napoletana di calcio femminile Carpisa Yamamai. L'obiettivo è sicuramente ritornare in Serie A, dove 15 anni fa iniziamo, in 4 anni vincevamo 4 campionati, poi un po' anche per mia negligenza che ho abbandonato per andare al maschile, ho fatto la mia esperienza, ho vinto anche al maschile, poi ho capito che invece il femminile è lo sport del domani perché è quello che mi ricordo ai tempi di Giuliano, quando c'era l'attaccamento alla maglia, c'era la passione per la città, maggior parte napoletani, noi il 90% è una squadra di napoletane, molti hanno delle situazioni familiari abbastanza difficili, quindi non solo nel sociale, ma porteremo l'azzurro di Napoli in giro per il mondo e sicuramente in 3 anni, con un po' di fortuna e la tartaruga ce la porterà, andremo sicuramente a scontrarci con le grandi realtà del nord, Juve e Inter e Milano in testa.